Mercoledì prossimo, 20 gennaio, in occasione della ricorrenza del patrono San Sebastiano, sarà celebrata la giornata regionale della Polizia Locale. Questa mattina, nella sede del comando del Corpo Comunale di Pordenone, ai sindaci Claudio Pedrotti e Mara Giacomini sono state illustrate diverse attrezzature in dotazione al corpo, costituite da un fonometro, un kit per la rilevazione dei documenti falsi, un etilometro ed uno spray anti-aggressione. A seguire è stato presentato il programma della manifestazione. Deve essere un momento di festa per Pordenone, ospitare questa manifestazione è sempre stato visto come un momento di riconoscimento anche all'attività che viene fatta da una determinata Polizia Locale e credo che sia un riconoscimento giusto dato proprio alla nostra Polizia Locale che ha avuto un anno difficile ma è sempre stata vicina ai cittadini e è riuscita a far sì che questo senso di sicurezza e la sicurezza della città rimanesse uno dei nostri punti di forza. La giornata della Polizia Locale del Friuli Venezia Giulia comincerà alle 9.30 con la presentazione della forza alle autorità presenti, seguire l'alza bandiera. Da lì ci recheremo nel Duomo con Cattedrale dove il nostro Vescovo Monsignor Giuseppe Pellegrini celebrerà la Santa Messa. Dopodiché formeremo un corteo in cui ci recheremo attraverso Corso Vittorio Emanuele, Piazza Cavour e Corso Garibaldi nella sede della provincia per la celebrazione ufficiale. Grazie a tutti.